Una vera e propria catena di solidarietà. E' questo il risultato di un'idea di Antonello Catania, fondatore della catena di negozi Zoom Iguana. L'iniziativa si chiama Bocconcini d'amore che, parafrassata, vuol dire donare delle scatolette di cibo ai cani del canile dei 400 di Giuliano in provincia di Napoli. In una lettera inviata ai colleghi commercianti e imprenditori, il fondatore dei negozi specializzati in prodotti e servizi per animali ha fatto appello alla generosità dei napoletani e le risposte sono prontamente arrivate. Sosteniamo l'iniziativa Bocconcini d'amore perché pensiamo, riteniamo giusto sostenere queste iniziative per Napoli e per tutti i nostri amici a quattro zampe. Per partecipare a Bocconcini d'amore c'è tempo fino al 15 gennaio del 2020. Nel frattempo i 23 imprenditori, i titolari delle attività commerciali che fino a ora hanno aderito all'iniziativa, hanno ricevuto un carnet di voucher da distribuire ai clienti, i quali presentando il coupon al punto vendita di via Santa Brigida non solo otterranno uno sconto del 10% su loro acquisti, ma parteciperanno attivamente all'incremento del numero di passi che Zumiguana, in collaborazione con Farmina Pet Food, donerà agli amici a quattro zampe del canile dei 400. Oggi i napoletani hanno fatto capire ancora di più come sono generosi. Questa iniziativa che conferma di nuovo la solidarietà e il cuore dei napoletani. C'è l'incremento turistico ed è sostanzioso, ha detto nella lettera Antonello Catania, ma possiamo, ha continuato, e dobbiamo fare ancora meglio, dobbiamo far vedere là fuori di cosa sono capaci i napoletani.